Nel corso degli ultimi due mesetti ho portato una serie di video dove spiegavo alcuni algoritmi di ordinamento per un totale di 12, una bella dozzina. Se avete visto il mio codice github ce ne sono 14. Gli altri due sono implementazioni fatte da voi e oggi diamo uno sguardo. In questo video cerco di fare del mio meglio per capire cosa ci sta dietro a queste implementazioni, portarvi una mia interpretazione di quello che ci sta dietro a questi codici che sono stati condivisi con me. Capisco che questo possa sembrare una sorta di inaccuratezza di questo video tuttavia queste implementazioni non hanno commenti e quindi io posso solo ipotizzare cosa ci potrebbe essere dietro. Ovviamente io riesco a leggere i codici che mi sono stati mandati ma diciamo che non riesco a leggere nella mente delle persone che le scrivono. Una cosa importante in questo video non voglio mettere alla gogna nessuno. Cerco di fare del mio meglio per offrire una critica costruttiva. Il problema è che ogni qualvolta che lo faccio le persone si offendono e non so perché ma su questo punto ci ritorneremo più tardi. La prima implementazione della porta è un certo Ilio Meloni su un commento che è stato lasciato qua sul canale. Andiamo a vedere. Questo è un approccio di vita ed impera un po' come il quicksort però che non usa la ricorsione. Questo lo dice lui stesso ed è molto chiaro anche dal codice che non è ricorsivo. Una cosa che salta subito alla vista è che questo codice è molto confusionario. Avere switch case annidati non è esattamente la cosa migliore da fare. Ma vediamo comunque cerchiamo di capire come funziona. Lo mettiamo intanto su sort visualizer e effettivamente funziona. La RaiStack che c'è qua contiene effettivamente lo stato delle ricorsioni. Come dicevo non è un algoritmo ricorsivo ma questo stack ne simula il comportamento. La prima cosa che possiamo notare è che stack non è uno stack è una coda in effetti. Se non sapete la differenza fra code e stack beccatevi questo video. Questo perché gli elementi in questa variabile stack vengono messi con il metodo push che le aggiunge alla fine di un array in javascript. Mentre il metodo shift li prende dall'inizio. Quindi è una coda. Qua prendiamo un elemento dall'Array e facendo l'Object Distraction di javascript prendiamo left e right. Stabilisci praticamente il limite sinistro e il limite destro di un algoritmo di vite ed impera che però alla prima iterazione o alla prima ricorsione, in questo caso è iterazione, è tutto l'Array. Quindi possiamo saltare direttamente dal default e capire cosa succede. La prima cosa che si fa è controllare se il valore di sinistra è maggiore di quello di destra e se così viene effettuato uno scambio. Vengono settate tutte queste variabili qua. Quello che fanno questi due while mi è poco chiaro. Cursor left e cursor right vengono fatti scorrere quando gli elementi non sono ordinati. Cerco in qualche modo di spiegarmi meglio però non so se ci riesco. Mettiamo questo caso 1, 2, 4, 3, 5, 6. 1 e 6 sono pivot left e pivot right rispettivamente mentre 2 e 5 sono cursor left e cursor right. Qua dice esegui il ciclo finché il valore pivot left è maggiore del valore di pivot right che non è questo caso perché 1 è minore di 2 quindi non si fa niente. Stessa cosa al contrario per il secondo while. Quindi questi due cursori non si spostano e la loro distanza è 3 quindi andiamo al caso di default di questo secondo switch e vediamo che c'è questa condizione c'è questo if. If get value di cursor left è maggiore di get value di cursor right e vediamo che è falsa perché 2 è minore di 5 quindi si salta la else. Quest'altra condizione è falsa perché il pivot left è 1 e il cursor left meno 1 fa sempre 1 quindi 1 non è minore di 1 per lo stesso motivo quest'altro if è falso quindi qua i pivot vengono spostati non ce la posso fare e boh e anche i cursori non lo so quello che succede di preciso ci ho provato non sono certo di quello che dico perché come vi dicevo non essendoci i commenti non riesco a capire la logica dietro cioè io non leggo le menti leggo solo questo che ho scritto qua un codice in javascript di funzionare come abbiamo visto funziona è chiaro che questo codice fa tanti confronti e per verificarlo l'ho rimplementato in python questo perché sort visualizer mostra solo gli scambi e non i confronti come fa il mio di codice ovviamente non so se la mia implementazione è corretta al 100% ci potrebbero essere degli errori però se lo eseguiamo è molto chiaro visivamente che ci sono degli scambi che non sono necessari come vi dicevo all'inizio di questo video io ho ricevuto due implementazioni e adesso andiamo a vedere il secondo codice che mi è stato mandando ma lo facciamo dopo la sigla benvenuti e ben ritrovati fin qui in questo nuovo video di code academy io sono valerio e oggi parliamo delle vostre implementazioni degli algoritmi di ordinamento iscrivetevi al canale lasciate un like e se volete potete offrirmi un caffè virtuale su coffee il link lo troverete in descrizione dunque proseguiamo dicendo che questo codice a differenza dell'altro mi è arrivato per email non dirò nome e cognomi di chi me lo ha inviato ringrazio gli autori per averlo condiviso con me e anche per la loro donazione su coffee per questa parte del video è importante almeno per me mostrarvi quello che ho risposto quando mi è stato mandata la loro email con il link al loro codice la mia risposta è stata questa cari x e y prima di tutto grazie mille per avermi contattato ho dato più di un'occhiata al vostro codice l'ho rimplementato nel mio programmino in python che avete visto nei miei ultimi video se la mia re implementazione è stata fatta bene credo di aver trovato un paio di criticità se vuoi te le posso illustrare a presto valerio cosa significa questa email? questa email significa che io ho visto il loro codice ed ero ben lieto di fare una lista dei problemi che ho trovato solo se me lo avessero permesso la loro risposta è stata caro valerio lo stavamo testando meglio siamo sicuri di un tuo super competente contributo attendiamo i tuoi commenti magari ci fai un video saluti e infatti siamo qua a farci un video il giorno che ho ricevuto quella risposta io stavo male cioè stavo raffreddato a merda e a causa di ciò facevo anche molta fatica a concentrarmi comunque questa è stata la mia risposta quattro punti critici andiamo a vedere prima cosa fa il loro codice e poi vi mostro quali sono stati i problemi che ho trovato io a differenza del codice di poco fa questo è scritto in sì e per me è molto chiaro quello che fa anche se non ci sono i commenti in questa riga vengono determinate le run che sono regioni dell'array parzialmente ordinate su queste run poi viene fatto l'insertion sort che per capire cos'è l'insertion sort beccatevi questo video e poi le run parzialmente ordinate vengono unite secondo un criterio determinato da should merge usando come algoritmo di ordinamento il merge sort per me è semplicissimo questo codice l'ho riemplementato nel mio programmino in python e sempre che non ci siano stati degli errori a me non funzionava con questo setup che è lo stesso setup che avete visto nei miei video passati si veniva a creare un ciclo infinito ho dovuto fare qualche piccola modifica e funziona ma anche se funziona non è lo stesso preciso algoritmo che mi è stato passato da loro dunque andiamo a vedere come si comporta e avete notato questa prima passata di verde che sembra che non fa nulla e poi inizia il merge sort rivediamolo questo che vede qua è l'insertion sort ma perché l'insertion sort non fa niente? perché viene applicato a delle run che sono state determinate qua che per definizione sono parzialmente ordinate quindi l'insertion sort non ha niente da fare cioè si trova delle run che già sono parzialmente ordinate e lui non fa niente e questa cosa smarca due dei miei primi punti che ho scritto nella mia email di risposta il terzo punto è un po' più tecnico da spiegare ma provo ovviamente di fare del mio meglio merge run applica merge sort alle run che sono parzialmente ordinate in particolare le run vengono ordinate se la potenza di una run è minore della potenza della run successiva questo non mi è chiaro perché però è quello che succede nel mio caso specifico accadeva che arrivavo ad avere alla fine 4 run dopo tanti merge la prima con una potenza maggiore della seconda la seconda maggiore della terza e così via quindi poiché questo accadeva questa condizione che vedete qua a schermo era sempre falsa ed ecco il ciclo infinito in cui mi sono imbattuto ho aggiunto una condizione tale per cui se ci sono merge da fare quindi ci sono ancora run da unire ma non vengono fatti alcuni diciamo fusioni bypassso il controllo e le unisco in ogni caso il quarto punto della mia email è che la strategia da loro proposta porta in alcuni casi come vedete di fare il merge sort con run che poi hanno dimensioni troppo diverse il merge sort funziona bene con gli abberi bilanciati questo qua si sbilancia anche piuttosto rapidamente come vedete qua a schermo ricordo che prima di dare loro i miei commenti avevo chiesto loro il permesso di poter dare la mia opinione ad oggi non mi hanno risposto mi scuso se magari nella mia risposta sono stato offensivo non era la mia intenzione però magari dopo aver visto questo video fatemi sapere cosa ne pensate perfetto pinquini questo è tutto per oggi grazie per essere stati qui con me anche oggi e almeno che non vogliate condividere con voi i vostri tentativi di avere nuovi algoritmi di ordinamento credo che la serie su questo argomento volge al termine e noi ci vediamo alla prossima ciao Kilo Kilo Kilo